Bentornati, buonasera, io esito e oggi voglio parlare di una notizia, di un articolo a dir poco ironico scritto sulla testata de Duran e condiviso da un giornalista qui molto famoso in Ungheria, Bayer Scholt un articolo scritto da Alex Christoforu che parla di come Soros torni a tuonare contro Zuckerberg cioè Zuckerberg il patron di Facebook sul New York Times, per dire solo una frase che è un po' l'icona, iconica per tutto ciò che è l'articolo e tutta la questione ve la dico, non farmi ripetere ancora che devi essere rimosso da Facebook in un modo o nell'altro questo Soros si riferisce così a Zuckerberg sul New York Times il motivo è che Soros accusa il capo del social di voler massimizzare i profitti senza curarsi delle conseguenze delle sue azioni mi ricorda qualcun altro se la prende con Zuckerberg è il vertice del colosso social Sherry Sandberg in un modo o nell'altro dice che queste persone, lui, lei e Zuckerberg devono perdere il controllo dell'azienda, del colosso social il filantropo, il grande filantropo, sempre paladino della difesa delle minoranze, della società aperta paladino disinteressato ricordiamocelo vorrebbe anche che chi diffonde false notizie, fake news, venga punito più severamente sui social, anche su Facebook quindi lui da grande liberale vuole punire tutti quelli che la pensano in maniera diversa presunte fake news, notizie false e punta il dito contro la sezione 230 che è una legge statunitense che protegge i social dalle responsabilità dei contenuti postati dagli utenti su di esso Shorosh, o su di essi meglio, cioè su tutti i social, gli utenti pubblicano e la responsabilità è di chi pubblica e non della piattaforma che offre spazio Shorosh vorrebbe un Facebook trattato quindi come testata, come pubblicista e non come piattaforma cioè deve rendere conto di tutti i contenuti postati su di esso anche delle info sulle organizzazioni non governative, sulle ONG di cui Shorosh appoggia molto spesso le appoggia, le crea, è padrone va oltre Shorosh, insinua l'esistenza di un patto antidemocratico lui che dice antidemocratico a qualcos'altro, a qualcun altro è assurdo un patto antidemocratico tra Facebook e Trump, il presidente degli Stati Uniti che ha speso milioni di dollari per la campagna su Facebook delle elezioni del 2006 ricordiamolo, questo è importante, Trump sarebbe aiutato secondo Shorosh ad essere rieletto nel 2020 per la seconda volta, in cambio il presidente proteggerebbe Facebook dalle accuse, dagli attacchi mediatici e legali, dei concorrenti anche, ricordiamolo anche il rapporto con Google. Ricordiamo che Shorosh poi ha finanziato con 5,1 milioni di dollari il partito democratico statunitense, quindi Hillary Clinton, fino all'agosto 2019, l'agosto scorso e che sin dal 2018 ha preso di mira Facebook insieme con Google definendo il social una minaccia per la società, lui che definisce minaccia per la società o qualcun altro, perché provoca dipendenza agli utenti tramite un'interfaccia accantivante cioè crea delle reazioni, del rilascio di dopamina. Tra l'altro dopo queste accuse ha venduto il pacchetto azionario che aveva in Facebook e Shorosh aveva comprato in Facebook cioè le sue quote, così affossando il titolo di Facebook in borsa. Dunque ha fatto il suo frutto delle sue accuse vendendo le quote che aveva. Seguendo quindi la teoria della riflessività del suo professore universitario alla London School of Economics Karl Popper, filosofo, applicando la teoria della riflessività ai mercati, cioè in soldoni le analisi anche autoprodotte cambiano il sistema. Cioè io accuso qualcuno, io sono qualcuno di importante come lo è Shorosh, un speculatore forse più grande al mondo, che critica, accusa un'azienda come Facebook e poi vende le azioni perché? Perché così affossa il titolo e riesce ad accaparrare ricchezza. Comunque è assurda questa diatriba tra l'ultraliberalismo di Facebook e l'ultraliberalismo di Shorosh e come tutto questo sia ironico, sia assurdo. Shorosh che se la prende con Facebook perché è troppo incline a Trump, troppo incline a chi critica l'ONG. Bellissimo. Dunque in soldoni questa notizia che cosa ci dà? Ci dà che Shorosh continua ad essere il paladino ad aiutare l'umanità prendendosi cura di essa, ponendosi come il guardiano, chi? Come il garante della democrazia, della moralità, perché lui non ha speso, no, non ha speso 600.000 sterline soltanto su Facebook in annunci pubblicitari per la sua campagna anti-Brexit e per educare gli elettori dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, no, 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 per educare a votare Remainer, per rimanere in Europa, no. Lui non ha fatto mai tutto questo. Se volete lasciate un mi piace, se volete condividete il video per far crescere il canale, iscrivetevi e seguitemi anche su Facebook. alla prossima Vislat.